Può un quartiere di Napoli, povero e malfamato, cambiare il suo destino grazie a un patrimonio culturale nascosto nel sottosuolo? Parte da questo interrogativo il volume Rione Sanità e il cimitero delle Fontanelle, un laboratorio vivente, a cura di Giuseppe Pace, ricercatore dell'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR. Il libro, sottolinea una nota, racconta i risultati del Living Lab dell'azione Cost Underground for Value, finalizzata alla tutela, al riuso e alla valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale underground europeo con la partecipazione per l'empowerment delle comunità locali. Ascoltiamo Giuseppe Pace. In questo libro raccontiamo di un'esperienza in cui abbiamo provato a spingere il Comune di Napoli a una gestione condivisa del bene con la comunità locale, attraverso una serie di incontri, attraverso anche una serie di riflessioni e di esperienza, invitando degli esperti esterni per giungere poi a definire delle linee guida per poter gestire questo bene in maniera condivisa. Ovviamente questo nostro lavoro è stato soltanto un piccolo tassello, anche preliminare, a quello che poi avverrà nel Rione Sanità e nella gestione del cimitero. Un approccio che si è proposto non solo di coinvolgere le comunità nei processi decisionali urbani, restituendo loro un ruolo pienamente attivo, ma anche di analizzare il contributo che il patrimonio sotterraneo può dare all'identità individuale e collettiva, alla coesione e all'inclusione sociale. Ascoltiamo Massimo Clemente, direttore CNR Iris, e Alessandro Castagnaro, professore di storia dell'architettura dell'Università Federico II di Napoli. La sanità è certamente un esempio virtuoso. In questi anni è stata l'attenzione di studiosi, non solo di urbanistica, di storia, di restauro, ma anche di studiosi di economia come modello di valorizzazione culturale, ma anche economica e sociale dei territori. Un quartiere che in un certo senso è rimasto isolato nel momento in cui è stato fatto corso a Medeo di Savoia. Mentre prima era di collegamento e quindi ha richiamato i grandi maestri del tempo, penso alle scale sanfeliciane dei palazzi, ma penso anche al camposanto delle fontanelle che antropologicamente ha un valore fondamentale per la città di Napoli.